Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo addominali workout Oggi voglio allenarmi con voi facendo un circuito di 10 minuti dove alleneremo gli addominali separatamente quindi prima a destra e poi a sinistra e quindi faremo 5 esercizi, 45 secondi di lavoro con 15 secondi di pausa tempo di passare da un esercizio all'altro fondamentalmente, non si riposerà molto quindi seguitemi e iniziamo il workout Grazie a tutti 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 Grazie a tutti